io sono di colina io sono milena e siamo amiche di ballo e veniamo da roma io ho 81 anni e io un po di meno dei tuoi ce ne ho 71 pari pari ci siamo incontrati cinque anni fa in una sala di ballo però scarseggiano molto i balleri scarseggiano capito buonasera buonasera come va bene voi come state alla grande alla grande ma che meraviglia che belle donne prima cosa dobbiamo togliere certo certamente e voilà nicolina come amica è una persona molto solare ci facciamo tante risate perché molto allegra però c'è un difetto è molto fanatica molto io sto sulle stelle già io dico adesso e allora intanto vi accompagno per un aperitivo grazie prego grazie millena è una persona che è buona ma soprattutto è dura capito grazie ammazza quanto so alti adesso l'aiuto prego faccia pure il giro davanti gli dico sempre cerca di essere più serena cerca di lasciarti un po più andare grazie tante grazie siccome siamo single tutte e due perché non andare insieme mi sono contenta guarda perché non dobbiamo ritrovare una compagnia riproviamo magari sarà pure l'ultima volta perché siamo pure un po grandini namaste mi chiamo mauro ho 75 anni viva roma faccio yoga non sono uno gli occhino serio gli occhini seri fanno un giorno a settimana io che sono uno gli occhino non serio faccio solo un giorno al mese gioco a dama sono anche un istruttore dama che ho così tanti interessi non è che temo la noia buonasera buonasera sono follemente ottimista amo la vita io sono barbara lametta piacere mauro gentilmente certamente la tengo io ultimo mamma mia questo è il mio primo appuntamento a buio ovviamente vorrei riconoscere una donna di cui innamorarmi io credo dell'amore nonostante la mia tenera età perché credo che l'essere umano vive più bene in compagnia che non da solo prego intanto la compagna c'è da qualcuno per lei grazie da questa parte mi rendo conto che non è facile però non escludo che possa succedere come addobberanno tutto bello grazie buonasera 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 io sono nicolina piacere io mauro piacere piacere io milena mauro sempre mauro la prima cosa che guarda una donna è sicuramente il viso lo sguardo dopodiché che parlando mi renda conto appunto che sia intelligente non che deve essere l'italiani montalcini però insomma da dove vieni roma sei stato sposato no sposato proprio mai ecco per noi siamo state sposate tutte e due sì sì mi raccomando per questa serata cerca di essere meno fanatica intraprendente vai anche a ballare per caso no della verità no mi chiamo alessandro ho 80 anni faccio il fotografo che sono di roma mi piace stare all'aria aperta andare in giro detto io vado col camper quando è proprio perché devo essere libero è il mio primo appuntamento al buio spero che ci sia la luce buonasera buonasera dal 2006 da dopo che è deceduto mia moglie io sono singolo prego mi aspetti pure qui arrivo subito ho conosciuto qualche signora così però non mi sono più innamorato l'accompagno perché c'è già qualcuno che l'aspetta va bene prego da questa parte piacerebbe incontrare una donna giusta simpatica mi andrebbe che sia abbastanza allegra e così passi la serata signori questo bancone adesso è completo grazie rimane solo da scoprire quali saranno le coppie ma certo a più tardi grazie 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 io sono milena milena io sono nicolina nicolina alessandro mauro mauro hai capito subito allora la macchina fotografica è tua io se lavoravo con le foto e invece il fotografo sì